Papà mi raccontava un episodio di una volta che era domenica e lui non aveva macchina a quell'epoca, andava in bicicletta e passava per piazza di Spagna e ha visto Roberto seduto sulla scalinata che prendeva il sole. Allora si è fermato, che stai a fare? Devo fare un film con Anna e poi ho preso per la parte di un prete, una parte drammatica, un comico che si chiama Fabrizi. E tu che stai a fare? E io voglio fare un film su dei bambini, sugli chiuscià che puliscono le scarpe a Via Veneto. Vabbè, ciao, vabbè, ciao. E papà dice in quel momento era nato il neorealismo. Hanno inventato un linguaggio, ha detto dai critici, cosiddetto il neorealismo. Ma la verità è che noi lo consideravamo il cinema dei poveri. Cioè, non avendo industria, non avendo stabilimenti, non avendo mezzi, ci arrangiavamo a girare per le strade, nelle case vere, dappertutto. Fuori dal teatro, fuori dalla falsità, fuori dalle scene inventate. I studios erano distruttati e tutto era scurato, quindi hanno usato ciò che avevano. e tu hai Rossellini e De Sica, Visconti, making these remarkable movies. Loro hanno inventato anche la tecnica cinematografica. Sono diventati nuovi e moderni anche usando lo strumento cinema, quindi la macchina da presa, le luci, i carrelli, la scenografia, la direzione degli attori. Avevano la forza di avere grandi racconti, grandi storie, e dovevano trovare la tecnica più aderente. That had huge influence. If you look at the neorealist movies like The Bicycle Thief and Open City, and then look at American movies, Hollywood movies, like Kazan's Panic in the Streets, or they had a real impact on American movies.